Montefiore, perché nella notte di Pasqua purtroppo è stata vandalizzata nuovamente la lapide che intitola l'arena della Rocca di Montefiore all'ispettore capo di polizia di stato Filippo Raciti, morto negli scontri durante la partita Catania-Palermo del 2 febbraio del 2007. L'installazione è stata ridotta in frantumi a colpi di martello ed è la seconda volta che la lapide viene presa di mira. Il sindaco di Montefiore, Valli Cipriani, ha denunciato l'accaduto tra l'altro ai carabinieri, parlando di un gesto che offende la memoria di un eroe e tutti noi. Quando si arriva a non avere rispetto neppure dei morti, ha detto, vuol dire che non esistono più né principi né valori e sta ad indicare che la dignità umana è stata calpestata dall'ignoranza e dal vandalismo peggiore. Non si dimentichi, dice ancora, il sacrificio di Filippo Raciti, vittima del dovere contro la violenza negli stadi, medaglia d'oro al valore civile, nonostante fosse stato ferito gravemente, è rimasto al suo posto fino alla morte, a garanzia e tutela della sicurezza di tutti. Tra l'altro sulla lapide poi è stata scritta la parola ACAB, che è un acronimo conosciuto, è utilizzato proprio per attaccare e insultare le forze di polizia. E tra l'altro, in proposito, interviene anche il sindacato autonomo di polizia, il segretario provinciale del sindacato, Tiziano Scarpellini, si è recato a Montefiore, parola di un atto che non va assolutamente sottovalutato, figlio di un clima di odio e di profonda ignoranza. Scarpellini auspica una forte presa di posizione da parte delle autorità politiche, poi dice ancora, siamo vicini e ci stringiamo a Marina Grasso Raciti e a Fabiana, che sono moglie e figlia dell'ispettore. Il SAP poi ricorda la prossima edizione del Cammino della Memoria, della Verità e della Giustizia, che partirà il 6 maggio da Piazza San Pietro e si concluderà il 19 a Monte Sant'Angelo, al santuario di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. In questo ambito, proprio il 16 maggio prossimo, a Montefiore Conca, all'Arena Filippo Raciti, farà tappa la staffetta in bicicletta, che da Udine arriverà a Monte Sant'Angelo e darà l'opportunità di ricordare il sacrificio di quello che viene definito un eroe moderno, che sebbene ferito gravemente quel 2 febbraio ha voluto continuare il proprio turno di servizio per non abbandonare i propri colleghi.